E' attesa per oggi la decisione ufficiale del governo dopo il report dell'Istituto Superiore di Sanità che la Calabria è pronta a cambiare colore. L'indice RT è sceso a 0.64, dunque ci sono tutte le condizioni e presto la Calabria diventerà zona gialla. Dice il presidente Spirli si tratta solo di attendere la decisione del ministro Speranza ma ormai è una cosa certa. Siccome ci hanno detto che i numeri sono a decidere ha spiegato il nostro indice di ieri era 0.64 e quello della Lombardia 0.8, quindi se riaprono Lombardia prima devono aprire anche la Calabria, ma poi arriva una nota d'agenzia che conferma che la Calabria da domani sarà zona gialla. A supporto della tesi ci sono anche i numeri del Dipartimento della Salute della Regione che anche ieri evidenziano un calo dei ricoveri e un aumento dei guariti e tornano ad essere più dei casi attivi. Anche ieri però si registrano vittime 6 per un totale che sale a 379. È migliorato pure il sistema pubblico di assistenza sanitaria con l'ampliamento del numero dei posti letto riservato sia alla terapia intensiva che in gestione ordinaria dei pazienti affetti da Covid. Da Roma nel frattempo giungono voci sul possibile cambio di colore e poi la conferma. L'allentamento della pressione del coronavirus sulla Calabria adesso avanza al ritmo più veloce. Dall'inizio della seconda data i guariti superano i casi attualmente attivi e questa è ovviamente una buonissima notizia. Ieri si sono registrate 512 persone mentre i nuovi casi sono 158. Sono suddivisi così territorialmente 67 a Cosenza, 34 a Catanzaro, 10 a Crotone, 5 a Bibo Valenza e 32 a Reggio Calabria. Un dato stabile ma che tende al ribasso considerando anche la circostanza che sono stati effettuati circa 300 tamponi più rispetto a ieri. Continua dunque la lenta discesa della pressione sulle strutture sanitarie. Scendono i ricoveri in area medica che sono 365, meno 5 rispetto al giorno precedente e anche nelle terapie intensive si registra un meno 3, attualmente 21 sono i ricoverati. Nella piana di Gioia Tauro a Torrianova un nuovo soggetto risultato positivo porta il totale a 260 dove comunque la situazione migliora di giorno in giorno. 39 attualmente i positivi di cui 4 ricoverati, meno 14, 218 negativizzati e 3 purtroppo deceduti. 6 nuovi casi positivi ma anche altri 6 negativizzati nel comune di Melicucco il cui bullettino al covid aggiornato è il seguente 20 persone positive, 42 persone guarite, 31 persone attualmente in isolamento. Tre nuovi casi invece si registrano ad Oppido Mamertina nel centro cittadino mentre nel resto del territorio comunale tutti negativizzati tranne uno i vecchi contagiati. Nella Locride ben 7 nuovi positivi e 4 guarigioni ieri a benestare dove pertanto il totale dei casi sale a 40 nonché 25 guariti dall'inizio delle pandemie. Un nuovo positivo a Siderno che rimane comunque il centro della Locride più colpito dal covid che porta a 61 i soggetti attualmente positivi, oltre 130 negativizzati. Purtroppo un docente della Pascoli infetto ha provocato la chiusura dell'intero plesso.